allora ragazzi facciamo un po di mac bang insieme a voi siamo andati al mcdonald sono le patatine qui c'è la coca cola che per l'ora è difficile fare coca cola zero senza ghiaccio perché o mi mettono il ghiaccio o mi fanno direttamente coca cola normale comunque non stampa neanche sulla cannuccia ragazzi da un po scostumato con i ragazzi è simile si vergogna perché ci mette due secondi a mangiare queste patatine hanno pure dimenticato il sale ragazzi non c'erano fredde ora che sono caldo e non c'è il sale ma è normale o è zero non c'erano fredde perché nella quadra dopo che sto mangiando l'olio un pochino perché non sta stampando prima che mangiasse le patatine no non li faccio mai questo tipo di video ma in genere sono molto guardati non so se il vento restano però proviamo che sto facendo con quel cane allora lui si è preso il gran crispy mac bacon chicken senza salsa perché tutto particolare la bontà delle salse lui non sa neanche come sia tutto il bacon di fuori ragazzi ora si mette anche le patatine dentro ecco l'aggrande così di salse mi spiace fare i video questo è dolce hanno fatto il contrario ragazzi le patatine le finisco dopo non mi mangio neanche il panino io io ho i gran crispi però con il classico con l'hamburga che si gioca un giovane tu stai giocando con la fantastica salsina qui c'è il bacon e un buon appetito ragazzi madonna quanto è proprio grande non diamo quello che è molto inizio tu hai voluto prendere la cotoretta che vuoi questo è più buono è più buono sì oggi per noi è 4 maggio non so quando vedrete questo video comunque è giovedì 4 maggio mattina ho fatto andato al mercato ho fatto le mie fantastiche compere che poi vedrete ovviamente mi sfotte ho finito di sfottermi dopo in realtà gli piace quando ho fatto i miei video siamo nei negozi mi fa riprendi questo riprendi quello non sfotte il panino non stampa ragazzi ma ora inizio a stampare come non mai perché tutta la salsa unta però come vedrete poi anche o avrete già visto sicuramente dal video dove lo testiamo insieme è durato tantissimo e quel che costano poi è fantastico veramente se vedete qualche taglio è lui che rutta quindi devo tagliare ora mi sa che già ci sarà perché l'ha fatto poco fa a lui ci piacciono anche tutti a guadagnare io sono la poverazza di youtube ci metto 4-5 mesi a fare 70 euro quindi rendiamoci conto a diventare mai un lavoro mi spiaggio perché mi piace tanto però è così lui ogni volta che smonta la macchina fa tutte le sue cose e compra le cose delle ottrezze a un'officina in quella cantina potrebbero aperti il canale così i ragazzi guarderebbero le sue cose ma non ne ho voglia si vergogna ragazzi come tu sul forum BMW vi date i consigli di quali sono i problemi le cose stessa cosa no no si io non parli sono diversi parlare e scrivere non è stato qua no ti vergogni e qua non parli da me no no ma se sei sempre ripreso lo stesso tanto vale tanto vale quando mangiavo un altro panino pochino lo ho edito io i video tanto ormai non mi fare neanche fatica la notte perché mi piace editarle la notte ragazzi sono insonne almeno mi passa il tempo guardando i video su youtube prima di tutto uomini e donne si discute quando è finito mi vedo qualcosina su youtube e poi mi edito i video che ho da fare se ne ho fatti nella giornata e poi che fai e vedo le iene se ci sono davvero tu non ti hai mandato il video quello del napoli visto sono andate le iene a napoli quando hanno fatto quella festa quest'ora ce l'avamo pure in tv ma sono inventati un'altra cosa prendono una bottiglina di vetro e mettono il tappo di sughero dentro e esplorzano da una siringa l'aria la chiudono e vendono l'aria di napoli ma l'avevo in 10 anni no e poi l'ho vista non l'avevo mai vista ne fare ma tu non si può dire che tu non ce li sa mi ha imbriato mi ha imbriato due e mele radiali invece di 5 e io devo fare sirigna c'è un video guarda il pezzo tutto qui dietro che c'è? non c'è niente in più i fazzoletti i fazzoletti li vuoi? non male ragazzi devo tagliare devo tagliare che si sta vomitando giusto smettila che poi lavoro io dove li ho messi? le tolci? ma come la pigliava? ah sono le di sotto ah c'erano pure le cannucce guarda dove erano e mentre l'era ce n'erano tre e ne ritorno due guarda ed la disciplina ti dici guarda belle guarda guarda Se non vi ricordate comunque questo è quello di Shiglem, Tan, Tan Ever, una cosa del genere. Ho capito di sfottermi, si è bevuto tutta la cuore, la mia è sana come ogni tanta volta. Guarda che questo è merda. Bello, hai visto? Quella è la luce ragazzi, si abbandona qua, già non si vede la mazza. Ma vedi che qua c'è un bollino, non so che vuol dire, forse che è zero. Non lo so, ogni volta mi stupidesci tu, si cazza le cose. Scusate ragazzi, se con il ghiaccio mi si girano i denti, io la voglio senza ghiaccio. Sì, con il zero, senza ghiaccio stupidesci a chiedi, stupidesci. Perchè non c'è nessuno, poi non so se è così tanto difficile, se quella è troppo dolce e non mi piace, posso fare niente. Sì, adesso, io vedi con il giro. Adoro sì, buona 90. tempo non esiste che io faccio un video e lo pubblico sempre devo tagliare e fare però non c'è la mia ecco quindi tu due patatine ma mentre cammini sta il telefono è incastrato nel vetro è incastrato nel vetro sta guardando il volantino della Lidl perché è malato di Lidl ragazzi io sono malato per le cose proteiche skin care che ha la Lidl e lui le cose proteiche i barretti lui per le attrezzi e anche per le cose da mangiare c'è il sushi? no no ma è morto c'è il capicordo eh che è buono ci potete in griglia che è buono che è buono ma io non ho messo anche di mozzarelline ma sono tante cose che da Lidl e poi c'è la madre della settimana greca mi parla cosa è il tenere guarda non c'è la greca beh dici non ce l'ho di buco gli hamburger le altre volte le hanno messi 1,69 euro dove sono 2 euro gli scottoni ma 2 euro ogni volta sempre di più 1,70 euro ma 2 euro questa è della mamma quindi è 1,6 o 1,8 2 io gli ho fatto tutti i giorni i regali alla mia mamma perché ho comprato sempre cose quindi di tutti i giorni i nuggets 12 nuggets uno ne ho una confezionata aspettate che vi faccio vedere quali sono sono uguali a quelli del mcdonald fantastici sono da da quando da lunedì 8 da lunedì no qua dice giovedì quindi penso da lunedì lunedì 8 no da giovedì da giovedì questo da giovedì 11 questo non è di lunedì lo vedi che è la stessa pagina è però dice giovedì da qua no è la stessa pagina la vedi che è comunicante se lo vedrete in tempo questo video è da giovedì 11 questo è di lunedì pure la burro di arachido ragazzi finiamo le patatine poi vi faccio vedere il giossetto ragazzi ho finito anche le patatine sono andato praticamente tutto al centro è qui ora non l'ho portato dietro quindi lo rimuoviamo insieme con il giossetto vediamo se va via ora che è un to d'olio può essere che va via con il giossetto sì altri anzi io leva la salvietto stroccante come avete visto nel video ho dovuto anche sfregare perché non andava assolutamente via non andava assolutamente via se vi interessa il colore me lo chiedete ve lo scrivo bene comunque spero che il video vi sia piaciuto vi aspetto qui sempre al prossimo saluta saluta stiamo chiedendo il video saluta ai ragazzi e da che non ho mai morito nel telefono sbrigati saluta ciao no ragazzi questo sta peggiorando sempre giorno dopo giorno sempre di più deve stare su tik tok quindi è impegnato il ragazzo e intimitato penso scelta ecco 然